La giacca, ritrovata da un contadino, passò di mano in mano e, come è facile pensare, fece grasca al pore. Come era possibile che fosse stata così crivellata mentre il corpo non era stato neanche toccato? Era un vero prodigio che solo la magia poteva spiegare. Si fece quindi ricorso alla magia e ben presto si attribuì a Pasquale non solo il potere di trasferirsi da un'estremità all'altra dell'isola in un baleno, perché possedeva il dono dell'invisibilità, ma anche, ed era la più incontestata delle sue facoltà, visto che la giacca che avevano tra le mani ne faceva fede, di essere invulnerabile. Tutti i tentativi infruttuosi fatti contro Pasquale, il cui insuccesso veniva attribuito alle risorse sovrumane impiegate dal bandito, ispirarono un tale terrore alle autorità napoletane che, alla fine, decisero di lasciare Pasquale e Bruno pressappoco tranquillo. Da parte sua, il bandito, sentendosi sicuro, divenne ancora più agace. Andava a pregare nelle chiese, non da solo e non nelle ore in cui solo Dio poteva vederlo, ma in pieno giorno e durante la messa. Veniva giù durante le feste paesane, ballava con le più belle ragazze del paese e vinceva sempre nelle gare di tiro a segno, portando via il premio ai più abili. Infine, la cosa più sorprendente era che si recava a vedere gli spettacoli ora a Messina, ora a Palermo, certamente in modo non palese, ma ogni volta faceva un'uscita in tal genere, si prendeva cura di farlo sapere in un modo qualunque al capo della polizia o al comandante del posto. Insomma, a poco a poco ci si era abituati a considerare Pasquale e Bruno come un'autorità di fatto se non di diritto. Nel frattempo, gli avvenimenti politici obbligarono il re Ferdinando ad abbandonare la sua capitale e a rifugiarsi in Sicilia. Si capisce che l'arrivo del capo e soprattutto la presenza degli inglesi dovevano rendere le autorità un po' più severe. Tuttavia, siccome si voleva evitare un conflitto con Pasquale e Bruno, a cui si pensava fossero collegate forze consistenti nascoste nella montagna, gli si offrì di prendere servizio nelle truppe di sua maestà col grado di capitano, oppure di organizzare le sue truppe in corpi franchi e di fare con essi una guerra da partigiani contro i francesi. Ma Pasquale rispose che la sola banda che possedeva erano i suoi quattro cani corsi e che, in quanto a fare guerra ai francesi, egli sarebbe andato piuttosto in loro aiuto perché, dopo aver riportato la libertà a Napoli, venivano per portarla in Sicilia e quindi sua maestà, a cui augurava ogni bene, non poteva contare su di lui. La faccenda, per tale esposizione di principi, divenne più seria. Tale tipo di rifiuto accrebbe la fama di Bruno. Era ancora un capobanda, ma poteva facilmente trasformarsi in capopartito. Si decise quindi di non dargli nel tempo. Il governatore di Messina fece portare via i giudici di Bauso, Saponara, Calvaruso, Rometa e Spadafora e li fece rinchiudere nella cittadella. Dopo averli fatti mettere tutti e cinque in una sola cella, si degnò di regarsi personalmente da loro per comunicare che sarebbero rimasti lì dentro suoi prigionieri sino a quando gli avessero consegnato Pasquale Bruno. I giudici lanciarono degli altri urli e chiesero al governatore come poteva pretendere che dal fondo della loro prigione potessero compiere ciò che non erano stati capaci di fare quando erano liberi. Il governatore rispose che la cosa non lo riguardava appunto e che era a fare loro mantenere la pace nei loro paesi così come lui faceva a Messina e quando c'era una sedizione da reprimere lui non andava da loro a chiedere consigli e pertanto non ne aveva da dare quando toccava a loro catturare un bandito. I giudici capirono bene che non c'era modo di scherzare con un uomo dotato di una simile logica. Ognuno d'essi scrisse alla propria famiglia e riuscirono a raccogliere una somma di 250 once presso a poco 4.000 franchi. Avuta la somma pregarono il governatore di concedere l'onore di una seconda visita. Il governatore non si fece attendere. I giudici gli dissero allora che avevano trovato il mezzo di catturare Bruno ma che per fare ciò era necessario che permettesse loro di parlare con un certo placido Tommaselli intimo amico di Bruno. Il governatore rispose che era la cosa più facile e che l'indomani quella persona sarebbe stata a Messina. Ciò che i giudici avevano previsto successe. Mediante la somma di 250 once che fu consegnata immediatamente a Tommaselli e con la promessa di un uguale somma il giorno dopo l'arresto egli si impegnò a consegnare Pasquale Bruno. L'avvicinarsi dei francesi aveva fatto prendere misure estremamente severe nell'interno dell'isola. Tutta la Sicilia era in armi come ai tempi di Giovanni da Procida. In tutti i paesi erano state organizzate milizie che armate e rifornite di munizioni si tenevano pronte a partire da un giorno all'altro. Una sera le milizie di Calvaruso, Saponara e Rometta ricevettero l'ordine di recarsi verso mezzanotte tra Capo Bianco e la spiaggia di San Giacomo. Siccome l'appuntamento era sulla spiaggia ognuno credette che lo scopo fosse d'opporsi allo sbarco dei francesi. Ora, poiché pochi siciliani condividevano i buoni sentimenti di Pasquale Bruno nei nostri confronti, tutta la milizia accorse con molto entusiasmo all'appuntamento. Là, i capi si congratularono con i loro uomini per la puntualità dimostrata e dopo averli sistemati con le spalle verso il mare li divisero in tre gruppi. Raccomandarono loro il silenzio e cominciarono ad avanzare verso la montagna. Una truppa passò attraverso Bauso e le altre due la girarono dai due lati. Con questa semplice manovra la piccola fortezza di Castelnuovo si trovò completamente accerchiata. Solo allora le milizie capirono per quale scopo le avevano riunite. Avvisati del motivo la maggior parte degli uomini che componevano la truppa non sarebbe avvenuta. Ma una volta là nessuno ebbe il coraggio di fare diversamente dagli altri e tutti ubbidirono disciplinatamente. Le finestre del castello di Castelnuovo erano sfavellanti di luci ed era evidente che la gente che vi alloggiava era in festa. Infatti Pasquale Bruno aveva invitato alcuni amici tra cui c'era il Tomaselli e offriva loro una cena. Improvviso nel bel mezzo della cena la cagna favorita di Pasquale accovacciata ai suoi piedi s'alzò inquieta andò verso una finestra si alzò sulle zampe posteriori e abbaiò lamentosamente. Quasi subito gli altri tre cani che erano legati nel cortile risposero abbaiando furiosamente non c'era da ingannarsi un pericolo incombeva Pasquale lanciò uno sguardo scrutatore sui suoi commensali quattro di essi sembravano molto inquieti solo il quinto che era placido Tomaselli affettava una grande tranquillità un sorriso impercettibile passò sulle labbra di Pasquale credo che siamo stati traditi disse traditi da chi esclamò placido non so da chi riprese Bruno comunque lo siamo e ci ho detto s'alzò andò dritto verso la finestra e l'aprì nello stesso istante un fuoco di protone si fece sentire sette otto pallotto solo entrarono nella stanza e due o tre vetri rotti della finestra ai lati e sopra la testa di Pasquale caddero a pezzi intorno a lui quanto a lui come se il caso avesse voluto accreditare le voci che si erano diffuse sul suo conto neanche una pallottola lo toccò ve l'avevo ben detto riprese tranquillamente Bruno rivolgendosi agli ospiti che tra di noi c'è un Giuda alle armi alle armi gridarono i quattro convitati che erano apparsi inizialmente inquieti e che erano dei fedeli di Bruno alle armi alle armi per fare cosa esclamò placido per farci uccidere tutti è meglio consegnarci ecco il traditore disse Pasquale puntando la pistola verso Tommaselli a morte a morte esclamarono gli altri convitati lasciandosi su di lui lanciandosi su di lui per pugnalarlo con i coltelli che si trovavano sul tavolo fermatevi disse Bruno e prendendo per un braccio placido pallido e tremante scese con lui in una cantina situata proprio sotto la stanza dove era stata imbandita la tavola e mostrandogli alla luce della lampada che portava con l'altra mano tre barilotti di polvere collegati gli uni agli altri con una miccia comune che arrampicandosi lungo il muro comunicava attraverso il soffitto con la stanza dove si cenava gli disse adesso va va a trovare il capo della truppa e digli che se tenta di prendermi d'assalto faccio saltare a me e tutti i suoi uomini tu mi conosci sai che non minaccio in vano va e di ciò che hai visto e riportò Tommaselli nel cortile ma da dove posso uscire domandò l'altro che vedeva tutte le porte barricate ecco una scala disse Bruno ma crederanno che sto per scappare e spareranno su di me esclamò Tommaselli perbacco questo è un tuo problema disse Bruno che diavolo quando si tratta un affare non si è mai sicuri del risultato ma io preferisco restare qui disse Tommaselli Pasquale senza dire una parola prese la pistola dalla cintura con una mano la diresse su Tommaselli con l'altra gli mostrò la scala Tommaselli capì che era inutile replicare e cominciò a salire mentre Bruno liberava i suoi tre cani corsi il traditore non si era ingannato appena appena ebbe superato il muro con la metà del corpo 15 o 20 colpi di fucile partirono e una pallottola gli attraversò un braccio Tommaselli tentò di entrare nel cortile ma Bruno era dietro di lui con la pistola in mano parlamentare gridò Tommaselli parlamentare sono Tommaselli non sparate non sparate non sparate un amico disse una voce che dal tono di comando non fu difficile riconoscere per quella di un capo venne allora a Pasquale Bruno un terribile desiderio di mandare nelle reni del traditore il colpo di pistola di cui l'aveva già tre volte minacciato ma rifletté che era meglio lasciargli compiere la commissione di cui l'aveva incaricato piuttosto che ottenere una vendetta inutile di cui si 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 Grazie.